Musica Ciao a tutti ragazzi sono Dynamic e questo è Rektor, no questo è, eh si vabbè sono Rektor Siamo qui a combatto field 4 beta in anteprima Siego Frenzai An anteprima in beta vabbè è uguale Siamo noi due Dynamic Siego Frenzai Sì, su Shanghai, non è Skyline come diceva lui nel discorso Non so che cazzo stava sparando Comunque io faccio più schifo di lui perché io non ho mai giocato una serie di baffi Fermati un attimo Fps diciamo in teoria Ti fermi un attimo, ti devo riprendere Ok Guardate ragazzi Ahahahahahahha La si metti di fare le stesse scherzi, sparare nel pisollino eccetera Ok Eh, c'ho qui l'aiutante mio specializzato su queste cose che è mio fra Eh, fra dove dovrei andare? A Moncoglio, ma in Moncoglio non mi chavo lo schifo Frate, frate, dove dovrebbe andare? Frate Frate Te non spiegare i tuoi cazzo di munizioni Ahahahahha Un po' a fa ho visto crollare Vabbè, chi vuole sapere quanto FPS va Battlefield a me A high mi va a 60 FPS Al massimo, nel senso A high, cioè non è massimo, ultra sarebbe massimo A high mi va a 30 FPS Ma dove stai dando? Cazzo ne so Oddio, no, oddio, oddio Nooo Ma che c'è una limite di mappa, ce l'ho capito Idiota, idiota Ma nooo Ok, vabbè, siamo morti, se mi dice vede Ma no, no, non siamo morti Il primo fail, il primo fail Il primo super fail Ok, oh, fai il primo a te di deploy e poi faccio io Si è già fatto io Quindi, vieni Beh, ecco Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Che non posso farlo? Stai paracadutando per caso Dai, 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 dai Sto prendendo Oh, io spano sul di te Perché non posso spano sul di te Non so perché Comunque siamo qua Che vi posso raccontare Che Rodrigo fa schifo L'altro giorno Stavo per mettere Bugiardo Bugiardo, io sono molto bravo Diciamo che io sono l'occhio di davanti Però hai l'occhio di dietro Io sono molto bravo a questo gioco Si, c'è E' un po' bravo più di me, posso dire Sono pro, sono pro Infatti sono stato invitato Dai giochi migliori Oh Rodrigo, ci sono, ci sono Vai Uno dei migliori giochi Uno dei migliori giocatori della nazione Uno dei migliori giocatori della nazione Capture flag Un attimo, un attimo Io sono stato eletto come uno dei migliori giocatori della nazione Su batte P4 Infatti sono stato invitato per provare Primo gioco Ma questo è romato non mi fa schifo Il primo invio del gioco E se era uno di prima da vero Sì, ma perché tu così E niente E niente No, io vado, io sono un uomo di... Quindi voi che non sapete giocarvi il segno Praticamente per giocare vi servono Dai, te fai con il carro armato, Rodrigo Io vado... Come un assalto Ti dici il cannone, mettilo di davanti, la corazza di cannone, vabbè, quello che è, mettilo di davanti A me piace vedere la macchinina Ah, ma lì c'è qualcuno Ah, ma lì c'è qualcuno? Ah, perché non me l'ha detto che quelli di senza le scritte sono i miei nemici Vabbè, io credo di aver saputo Ma quanto è stupido, ragazzi Quanto è stupido Cioè, ora bisogna anche pure dirgli che... Oh, cazzo! Ragazzi, ho... A Rektoli bisogna... A Rektoli bisogna... A Rektoli bisogna pure dirgli... Nelno sono senza e non ho bisogno, non sono nostri amici... Stavo scherzando, semplicemente... NABU 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 Viste che faccio scherzo? Come si fa a fare il ninja battlefield? Ninja battlefield! Questo che cosa sarebbe? Ragazzi, io sono un pro! Dimo un cazzo, sono un pro! Sono un pro! Amma mia! 5 kill! 5 kill! Succhelto cortopene, Rektor! Succhelto cortopene, Rektor! Succhelto cortopene, vieni qua! Succhelto coglione, devi difendere! Succhelto cortopene, vieni qua! A me che me ne frega di difendere! Eh, fare il capture, volevo dire! Ciao ciao! Addio! Lì c'è un nemico, lì c'è un nemico! Oh, c'è un cazzone di nemico! Come un figo che lancia una granata! Ma è morto insieme all'esplosione! Chi se ne frega? Io ho visto che sono un figo, io lancio una granata come un figo! No, te devi andare insieme a me, ma non capisco un cazzo! No, a me non me frega di andare insieme a te! Beh, io seguo, vai! Non andare lì là perché ti ammazzo, non so! Non so! Non so! Dice che ti ammazzano i caro armati! Sì, sì, va bene, va bene! Faccio il segnale a me, no, fra! Oh, cazzo, ma che cazzo è? Dai, dai! Dai, dai, siamo pru! Dai, dai, siamo pru! Sarà un figlio di buonadonna che sta camperando seduto sopra per spararci? Non ci sono i camper, vabbè! Allora, ai fanboy, ai fanboy, dico, ai fanboy, dico, quelli che dicono che batte questi quattro E fa schifo e dicono che cosa è migliore Andatevi a succhiarvi il vostro corto pene No, io non ci sto a nessuno Cosa? Oh, dove? Dietro? Perché questo è un bel gioco! È un bel gioco! In cui voi potete giocare Eh, basta, basta parlare come un idiota Allora, questo è un bel gioco Voi non potete dire che questo Aspetta, io devo iniziare a usare la minimappa del Kaiser Infatti, devi usare la minimappa Il minimappa, ma ti fa vedere Aspetta, un attimo Questa domanda è proprio un abbo La minimappa fa vedere i nemici con la freccettina rossa Ah, ok Allora, di sottofondo sentiamo questo Tutorial, tutorial Perché questo è un abbo Non sentire il rumore, capito So come funziona il silenziatore Non è che sono proprio un abbo Come cazzo si anima? Tra poco muoio Cazzo, tipo, stavo rianimando Ma sei un figlio di buona donna tu, eh Ma te sei un figlio di buona donna, cioè Ti stavo rianimando Ma te non sai di animare Il fatto è questo No, io ti stavo rinominando Ma se tu stavi fermo, forse ce la faceva pure Ma no, ma te sei troppo stupido La gente di oggi che non sa giocare a Battlefield 4 Succhiati ucciso, succhiati ucciso Perché questi qui mi lasciano o non mi lasciano Io dovevo essere medico Come il cazzo è l'unica cosa che può fare Support? Io vado a fare Io vado su questo elicottero a farmi figo dalla 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 dada bada da 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 guardate come faccio figlio Jose da da un giro se il prodotto l'ario la mangi prodotto da sì ad andando stata da 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 c si ma questo qui tanzia insieme tante 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 c dvd dvd fatta sede dvd da un po' di amcizio del dvd da cintento d io voglio prima imparare un certo andando questo questo è il cot c'è un punto non si trova esperto per esperto esperto se chiesto dove vi faccio vedere come piloto io per ii ai tanti sono salita livello 4 quindi si chiate il nostro porto bene o no 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 e chiesto il nome di merda manomale era professionista si ma io potrò fare almeno jump vai a sistemare i pc della cosa vai a sistemare i pc di na oh 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 spawna spawna sopra di me si lo so si fatto basta che non vai a fare mappa questa volta come me che cazzo stai facendo no 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 oddio non andare lì davanti lo rifacciamo lo rifacciamo oh 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 vai nel posto d'atto ops ops ok questa volta conoscerete il mio frà lo lascio due secondi a giocare il mio frà che giocherà il mio frà non parlerà semplicemente no 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 voglio parlare company 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 ok siccome li sono tutti morti ma perchè è sceso questo oh ma perchè è sceso questo ma io boh la gente di oggi perchè scende aspetta 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 aspettami 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 se 20 quali qua andate tutti a milano andate cacca tabacchi sei a stab a stab no ma la mamma sono solo diventato proprio 2 secondi poi sony di domenica si apre non parliamo son no io ho fatto andare via questa nostra auto e basta che è che sta a guidare crazy da idiota facciamo una cosa fammi guidare a me guarda oh perchè ok questo mi piace guida guida oh chi è ah sono io a guidare si baby l'abbiamo ma l'abbiamo mazzato 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 come cacco si controlla addio 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 5 secondi 7 secondi ma dov'è si spara da 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 pensa che già non ci riesco a sparare pensa che non ci riesco a sparare te mi dici di uccidere ma questo è grosso allora il nabu il nabu il nabu eh il nabu rector mi dilude zitto ti faccio vedere io a nabu se vieni su inizio oh ragazzi ho fatto cadere si ma questo mi fa girare oh mi fai girare un attimo si abbiamo vinto la partita ci sono rimasto sempre lo stesso ho fatto sono morto 12 volte ho fatto se no 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 un attimo ragazzi crisis che nabu ho fatto più punti di me se certo allora assalti kit o sono salita livello 4 occhi ok già di questo mandato più novanta bottigliano lecce questo bag armi quanti quanti medaglie vediamo al cinema lato 4 mesi 4 quindi andate adesso chiede il vostro cortopene oh oh sono prima di te vaffanculo non fa niente 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 non è che te sei figo solo perché hai preso un punto di me ok ciao a tutti ragazzi alla prossima aspettate mi piace alla prossima video ragazzi altri cavolate se non è un altro problema lui per il giro di sicuro che è il seguito quindi cosa vuole di dire ecco eh finiamolo qua il video quindi ci vediamo a un'altra partita minuto bs batfield orde i due batte e quei due nubi su batte si e quei due nubi tre nubi magari anche tre tre nubi perchè c'era company che è il fratello diretto si e beh c'era il mio franche company e se volete faccio un comba un bel video su la canzone di dynamic su company ciao a tutti ragazzi alla prossima se non vuole vedere la tua canzone su ciao a tutti ragazzi alla prossima